Eh, poco da fare ragazzi, poco da fare, buona serata a tutti, cazzo, non cambia un cazzo, il Paris Saint-Germain non cambia, no, fanculo. Sono una squadra di figurine, Neymar fa circo, fa il pagliaccio, Mbappé cerca di fare qualcosa ma più di tanto non fa, Cavani si mangia dei gol pazzeschi. Alla fine ragazzi, il Paris Saint-Germain sulla carta era più forte ed è più forte del Napoli, poco da fare. A questo punto non vedo neanche così tanto nettamente questa differenza, ma non per la partita di oggi, ma anche sulla carta se noi andiamo a guardare, di fatto, tra l'altro, Verratti e Rabiot sopravvalutatissimi. Se io mi incazzo per Pjanic che non verticalizza mai, nel primo tempo tre volte Cavani scattato e si sarebbe trovato davanti al portiere a solo, Rabiot aveva il pallone e non l'ha mai servito. Verratti è la stessa cosa, quindi veramente il centrocampo del Napoli secondo me è superiore a quello del Paris Saint-Germain, Verratti è veramente sopravvalutato fuori maniera. Neymar è bravo ma senza messi su Arez dimostra che poi ragazzi c'è chi paragona il campionato francese perché c'è questo stracazzo di Paris Saint-Germain con gli altri quattro campionati. Non c'è storia, non c'è storia perché il Paris Saint-Germain è vero che, come dice qualcuno, si allena nel suo campionato, ma si allena contro chi? Contro le squadre di terza categoria? Quindi poi alla fine si abitua a giocare in un determinato modo e non migliora poi a livello europeo. E questo è un dato di fatto ragazzi, è poco a fare. Il Paris Saint-Germain oggi ha dimostrato questa grandissima pecca e soprattutto non c'è lo spirito di sacrificio che ad esempio stavo guardando da una parte sul PC Paris Saint-Germain Napoli, su Sky Go e quindi come sempre ringrazio Max che mi dà l'account e in televisione stavo guardando Barcellona-Inter. La differenza tra il Barcellona e il Paris Saint-Germain? Adesso ok, vabbè a parte le squadre, che poi di fatto probabilmente il Paris Saint-Germain in questo momento sui tre lì davanti è più forte nel complesso. Però la differenza tra Barcellona e Paris Saint-Germain e poi quando mi paragonano il Napoli di Sarri con il Barcellona e Guardiola veramente sono fuori dal mondo perché il Napoli fa sempre quella cosa. Cioè, oltre che a fare magari, a portare insegne col tiro a giro, a fare il cross per Calleon che poi la tocca a Mertes che poi la butta dentro e a quelle cose lì, ragazzi, guardatevi le soluzioni che aveva il Barcellona e Guardiola, era tutt'altra cosa. E anche questo Barcellona qui, a differenza del Napoli ma anche e soprattutto del Paris Saint-Germain, c'è uno spirito di sacrificio allucinante. Quando non hanno il possesso di palla, accorciano i reparti, accorciano i reparti, quello è l'importante, è fondamentale nel calcio. Quello che ha fatto anche il Napoli, senza andare per forza a guardare il Barcellona. Il Napoli oggi ha dimostrato cosa si deve fare a calcio, non basta avere i nomi, non basta avere i nomi. Poi, la differenza sta sulla panchina, perché da una parte c'è un fenomeno, anche se sta in culo, se lo odiamo e quant'altro, lo schifiamo, è ok. Però da una parte c'è un fenomeno sulla panchina, che è Ancelotti. Dall'altra c'è uno che ha esultato al 2-2 in casa contro una squadra che sulla carta è nettamente inferiore alla sua, ha esultato come se avesse vinto una partita di semifinali di Champions League alla fine. Quindi, mi fa capire quanto è Ancelotti, secondo me, è stato preso proprio per far andare avanti il più possibile il Napoli. E per far andare avanti il più possibile il Napoli, in Champions League, sa benissimo Ancelotti che bisogna puntare non a passare il turno, ma a passarlo come primo. E, nonostante fosse un girone abbastanza tosto, ha le possibilità per farlo, assolutamente. Ha dimostrato che in trasferta è maturato molto questo Napoli. Quindi, sicuramente, a parte appunto la sconfitta in campionato contro i noi, contro la Sampdoria, però anche lì, perché la Juventus è abbattuta in casa propria il Napoli? Ok che sono due competizioni diverse, ok che la Juventus è italiana e il Paris Saint-Germain è straniera, però perché la Juventus è abbattuta il Napoli? Perché una volta è andata sotto di un gol, giocando di merda i primi 15 minuti, poi ha avuto una reazione, una reazione di squadra. Vi faccio l'esempio di Neymar e Ronaldo. Neymar arriva al Paris Saint-Germain e fa il gradasso, fa già sportellate con Cavani, pensa di essere Dio in terra, Ronaldo arriva alla Juventus, noi lo presentiamo come ovviamente un fuoriclasse, un campione assoluto, però lui si mette a disposizione della squadra in conferenza stampa pre-partita di Manchester United e Juventus. A sto qua gli hanno chiesto, ma cosa ne pensi insomma di questo esordio praticamente in Champions League, la tua prima partita, perché di fatto sei stato espulso nella prima partita al 23esimo, quindi lui fa, no, cioè la Juventus ha esordito due partite fa ed è a 6 punti ovviamente prima di Manchester United e Juventus e questo è l'importante. Certo io sono contento di tornare a giocare e dare la mia mano, una mia mano alla causa bianconera, però l'importante è la squadra, cioè qua vi fa vedere la differenza tra un campione a livello internazionale assoluto e un fuoriclasse che però con la testa non è un campione, che è Neymar. Potrei fare lo stesso esempio tra Messi e Neymar, la stessa cosa. Lì è la differenza, cioè la differenza tra l'essere campione e un semplice fuoriclasse. Il fuoriclasse, differenza del campione, perché molte volte c'è qualcuno che dice ma no guarda che il fuoriclasse è più forte del campione. No, il fuoriclasse è quello che tecnicamente è fuoriclasse, cioè esprime una classe fuori dalla norma. Tecnicamente con i piedi è più forte rispetto agli altri. Il campione, a differenza del fuoriclasse, è colui che ha sia questo pregio, ma non deve per forza essere un fenomeno con i piedi, ma soprattutto nelle partite importanti e soprattutto con continuità c'è sempre dentro la partita, c'è sempre, è sempre decisivo, valorizza al 100% le proprie caratteristiche. Questo è il campione, questa è la differenza tra campione e fuoriclasse. Oggi il Napoli, ragazzi, è inutile dirlo perché lo conosciamo, il Napoli lo vediamo in casa, sì in casa, in Italia insomma. Il Napoli è una squadra italiana che comunque negli ultimi anni si è un po' dicono europeizzata. Non mi piace questo termine, diciamo che ha cercato di migliorare quelle qualità che aveva il Napoli, non il calcio italiano. Perché poi la Juventus, ragazzi, ha ragione Allegri quando dice giocando male non vinci. Ed ha ragione. Se la Juventus avesse giocato male non avrebbe vinto quello che ha vinto, non avrebbe fatto due finali in quattro anni in Champions League. Quando mi dicono Allegri si affida ai singoli, ma avete visto il Paris Saint Germain oggi? Avete visto il Paris Saint Germain? Il Paris Saint Germain oggi ha pareggiato la partita con un autogol e con un tiro, con un'invenzione di Di Maria al 92esimo, 93esimo. Quello significa basare tutto sui singoli. Allegri mi fa incazzare molte volte come quando ho cambiato quadrado mettendo Barzagli ieri, assolutamente. Ma non si può dire che Allegri si affidi ai singoli. Anzi, Allegri è probabilmente uno degli allenatori, uno dei principali allenatori che basa tutta una stagione su tutta la rosa che ha, non solo i singoli. Questo, vabbè, comunque, questo è quanto il Napoli ha fatto la sua partita onestissima. Alla fine, come dico sempre, il risultato è quello che, insomma, è giusto che sia uscito il pareggio, perché il Napoli doveva stare più attento anche sul finale di partita, insomma. Però, per quanto riguarda velocemente l'Inter, io l'ho vista veramente a sprazzi, perché sapevo bene o male. Io avevo pronosticato addirittura una sconfitta del Napoli e un pareggio dell'Inter. Però poi ho visto l'andamento. Secondo me, quest'anno, la squadra più temibile per noi, che puntiamo la Champions quest'anno, sicuramente, è il Barcellona. Ma non perché ha vinto oggi contro l'Inter, perché comunque sto vedendo che è la squadra che è più quadrata rispetto a tutte le altre, al PSG, al City, all'United, al Real Madrid. Insieme a noi, in questo momento, è la squadra più quadrata. Bisogna vedere poi, dalla seconda parte, perché poi c'è la seconda parte della Champions che parte praticamente da febbraio, bisogna vedere lì come arrivano le squadre. Se noi arriveremo così, meglio o peggio. Se il Barcellona arriverà così, meglio o peggio, e via dicendo. Quindi, niente, questo è. Vi auguro buona notte a tutti, sempre fino a fine Forza Juventus. E comunque concludo dicendo sempre quello che ho detto prima. Il PSG ha dimostrato di essere una squadra focalizzata sulle figurine. E poi, quando dicono altri youtubers che il PSG è paragonabile alle nostre squadre, alle altre squadre top d'Europa, e il campionato francese è paragonabile alla Premier, alla Serie A, alla Liga Spagnola e alla Bundesliga, per me è una cazzata. In questo momento anche la Bundesliga, comunque, non dico che sia a livelli del campionato francese, però è un gradino sopra e sicuramente un gradino sotto agli altri tre campionati, di sicuro. E niente, questa è la prova. Quando giocano in campionato, giocano contro squadre che sono paragonabili veramente alla Serie B nostra. Ragazzi, alla Serie B nostra. Cioè, nel campionato francese, un Palermo farebbe la sua bella figura, potrebbe tranquillamente entrare in Europa League, cioè, non manca una squadra di Serie A, lo so, prendete il Sassuolo di quest'anno, potrebbe tranquillamente arrivare in Centro League. È questo il campionato francese, ragazzi. Poco a fare. Senza sminuire la partita del Napoli, che ha fatto una partita dispendiosa, e ho visto sia contro il Liverpool, sia contro il Paris Saint-Germain, che corrono il triplo rispetto a quello che corrono in campionato. Quindi, veramente, mi dà la sensazione che il Napoli, veramente, quest'anno punti di più, ad andare avanti il più possibile in Champions League, rispetto magari a... se non barre tutto e puntare tutto sul campionato, rispetto a quello che hanno fatto, di fatto, l'anno scorso. Salvo, poi, per perdere lo scudetto in albergo a Firenze. Comunque, chiuso parentesi, ultima cosa, finalmente, Vidal è esordito con l'Inter. Boom. Chiuso parentesi, veramente. Buona notte a tutti, sempre fino a fine. Forza Juventus.